Ciao a tutti ragazzi qui Exavian e bentornati su 7 Days to Die Ebbene eccoci qua, siamo proprio davanti al venditore, ecco qua, al commerciante Che posto ho leggendo Traitor Jones Eppure il traditore per qualche motivo, non so se è un errore di battitura o se è fatto apposta Penso che sia una cosa fatta apposta Siamo qui per consegnare la missione E nice, sì, livello 2 di Sledgehammer, così possiamo passare avanti Vediamo se c'è qualche altra missione abbastanza vicina Abbiamo adesso la nostra cara bicicletta, quindi possiamo tranquillamente andare un po' a zonzo A girare, nel frattempo ho fatto un po' di raccolta di materiali Niente di troppo entusiasmante durante la notte Sinceramente non ci sono stati un granché di zombie nemmeno Andiamo un pochettino, dove ci porterebbe questa missione? Ci porta da qualche parte nuova, che possiamo esplorare, qualcosa del genere So che avevo detto nell'ultimo episodio di andare ad esplorare Quello studio Però Sarebbe carino andare a vedere un pochettino cosa c'è a questo punto da queste parti Quindi La cosa che farò Proveremo intanto la nostra cara bicicletta Ah, bene Così possiamo sfruttare la mamma di questo personaggio così non si può vedere Sembro Non lo so, qualche specie di stupratore o qualcosa del genere Perché C'ho questa giacchetta E poi c'ho I pantaloncini Lo so, fa una stranissima impressione sinceramente Eeeh Comunque andremo Direttamente a casa Svuoteremo le nostre tasche Eeeh Dopodichè Potremmo andare a vedere un pochettino che cosa c'è dall'altra parte Abbiamo Probabilmente ci sarà il bioma congelato quindi O meglio il nevato, meglio chiamarlo il nevato perché non è proprio congelato Potremmo mettere questo ferro A cuocere Diciamo così Possiamo farlo sciogliere Vai Eeeh Poi Dobbiamo posare un pochettino di cose Quella I soldi Li mettiamo qui Questo magari poi lo mettiamo a sciogliere La French Almeno una ce la portiamo Questo lo posiamo Portiamo metà di questo per sicurezza La legna Le portiamo la metà della metà della metà Le piume Ci serviranno ancora un po' Qualche painkillers Magari Meglio Cucinarci qualcosa No Un po' di Cibo non fa male per il momento Eeeh No giusto le voce Le ho già quindi Prendiamo solamente la carne Durante la notte mi pare di aver ucciso anche qualche altro Animaletto per strada Mangiamo bello caldo caldo Nice Un'ottima colazione Mmm Tra parentesi ragazzi Possibilmente sentirete la mia voce un pochettino Rauca al solito Però sto registrando la mattina Eeeh Sono già sveglio da molte ore Ho anche registrato già un altro video E nonostante tutto ancora Sembro Svegliato da poco Quindi Sinceramente Non posso farci nulla E' la mia voce che purtroppo ci mette chissà quante ore per Riscaldare E di conseguenza Non posso farci ingracchè E voglio sfruttare però questo tempo che ho a disposizione La mattina Perché comunque mi sto svegliando più presto Anche per stare meglio io E per sfruttare molto di più la giornata Perché in effetti prima Su certi punti di vista non Stavo troppo a dormire E magari sprecavo un bel pezzo della giornata Che comunque è la mattina Quindi Perdonatemi se la voce sembra un pochettino rauca Però non posso farci nulla Comunque Prima di andare A controllare Che cosa abbiamo lì Vorrei vedere la temperatura del nostro personaggio Cioè comunque Quanto abbiamo di resistenza al freddo 33 Quindi Sfortunatamente abbiamo soltanto questi pantaloncini Come vestiti Però abbiamo il cappellino di Babbo Natale E magari potremmo sfruttarlo Quindi magari Che poi siamo sicuri che Sia un bioma innevato Probabilmente sì Intanto ce lo portiamo questo cappellino Con quel 24 di resistenza Forse un pochettino cheating Perché non dovrebbe esserci solitamente Però fino a quando c'è E fino a quando questo mondo è così Lo sfruttiamo Caspita non ho visto quella Sacca di spazzature E ho danneggiato un bel po' la mia bicicletta Uff Al solito Non so cosa Succederebbe Se arrivasse allo 0% la bicicletta Non mi è mai capitato finora E meno male Però se dovesse rompersi Quello sarebbe nettamente colpa Perché probabilmente Non l'avrò riparata Nel tempo E' un'altra cosa Piuttosto importante Da sapere E' che per riparare una bicicletta Servano i repair kit Quindi Fortunatamente non sono più difficili Troppo difficili Ma meglio da fare Quindi Meglio fare comunque attenzione Se è possibile Proviamo a camminare In strade In strade belle Spaziose Comunque Ben visibili Perché Penso che la bicicletta Prenda danno Dà l'impatto con Qualche pietra Tipo queste qua Piccoline Con i legni In generale Che ci sono In giro Ovviamente con i macigni Quello è abbastanza chiaro Ok Bene Abbiamo trovato direttamente La strada Quindi devo fare un bel po' Di attenzione Anche agli ostacoli Che possono esserci Qui in giro Nice Gli fps Fortunatamente Non sono proprio terribili Però ci sono alcuni punti In cui Non sembra proprio pulito Pulito E Abbiamo un'intera città Da quella parte Quindi probabilmente Stiamo andando In una nuova zona L'acqua purtroppo Si comporta così Perché Non ho le particelle In questo momento attive Per cercare proprio Di risparmiare Sugli fps Però certo Sembra strano Che Visto da lontano Si vede bene Poi da vicino Diventa Tipo petrolio Cos'è questo suono? Ah probabilmente Saranno i Falegnami I taglialegna Oppure i boscaioli Chiamiamoli i boscaioli In effetti E non so perché Però gli zombie Sulla neve Mi piacciono tantissimo Ah ecco Ho acchiappato Una pietra Mi piacciono un sacco Perché sono tipo Più zombie Potremmo dire Forse Perché sono ancora Più palidi Quindi non lo so Ok Hai freddo Cappellino di babbo natale Vediamo Ho 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 Vai che sei passato Già però Perché no Fernando Ho anche il tempo Già Vuoi farci compagnia? Spero soltanto Che non sia Un Bioma dove troviamo Dei cani Che sinceramente Ho cominciato Un altro Mondo In single player E già dal primo giorno Ho trovato una zona Con Dove spawnavano Solo ed esclusivamente Cani E devo essere sincero Ho praticamente Delettato il mondo Perché già mi hanno rotto Le scatole Letteralmente È molto Molto fastidioso Avere a che fare Con i cani Dal primo giorno Perché comunque Wow 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 Che letteralmente Sono un pericolo pubblico Secondo me lo shottiamo Sto parcellino Vediamo Yeah boy Che strano Non abbiamo il nostro coltello Oppure Sto ricordando male Vabbè Ce ne facciamo uno Però caspita Non ci voleva Ok E ci prendiamo Un altro pochettino Di carne Almeno Guadagniamo Un po' di più Mi chiedo Che cosa Succede Cioè voglio provare A tenere anche La bicicletta così Giusto per In caso Mettiamo tipo Le cose meno Importanti Tra virgolette Che comunque Il cibo Caspita Importantissimo Vediamo un po' Che cosa succede La lasciamo fuori Anche perché Non so cosa accade Se prendiamo la bicicletta Con del contenuto dentro Non so nemmeno Se si può fare Sinceramente Quindi magari Dove lo proviamo Questo bioma Mi sta un po' Confondendo Dove dobbiamo arrivare Esattamente Non lo so Però Questa città Interessante Pop and pills Quindi qui Abbiamo Una struttura Con una farmacia Potremmo dire Una farmacia Molto grande E Caspita Nope L'orso Purtroppo Uh aspetta Però è un orso Non infetto Uh Dovremmo affrontarlo L'orso non infetto Da un sacco Di cibo Ok sta lì Per un attimo Ho perso L'orientamento Io ho 43 frecce Quindi Aro Facciamo al massimo Intanto leviamo Sto tizio Che sinceramente Ce l'ha con l'albero Come da buon Boscaiolo Ok nice E questi qua Sono eccellenti Tra parentesi Questa zona Potrebbe essere Buona per farmare Una volta Che riusciamo A ucciderli Velocemente Ok Allora Questo sarà duro Eh What? E' nei arrow? Oddio Quanto è veloce Ci vorranno 185 frecce E soprattutto Quella freccia Decisiva Non lanciarla E' iniziata E' iniziata E' iniziata Ok, andiamo Assolutamente mi ha giocato lui No La mia stamina Porca la miseria, non è un orso È un carro armato Ok No, no, no Un attimo, proviamo No, non voglio fare questo Questo voglio fare F12 Ok, nice Quindi così prendo praticamente le copertine No, giusto? È normale per me Oh Ultimo colpo, baby E comunque 800 punti esperienza per un orso di questo Che praticamente servono 85.000 frecce Sembra un po' poco Ok Belli 49 di carne così A gratis, tra virgolette Abbiamo anche Com'è che si chiama? Testosterone Oh Estratto di testosterone Eh Diciamo che Serve per fare gli steroidi Da quello che ho capito Quindi non è male E a quanto pare No, non è qui No, non è qui però Caspi Abbiamo un Pass and gas Proprio sopra la montagnetta Nice Dai Caspi Mi stai portando Sulla zona meno hype possibile Oh Certo In effetti è un tier 1 Quindi ancora Sfortunatamente Non è un granché Allora Potremmo fare una strategia Molto intelligente In realtà La voglio fare per il semplice motivo Che spero che qualcuno Lo veda Perché Oh Tu In pratica C'è una strategia Molto interessante Che possiamo sfruttare Cioè Possiamo Uccidere tutti gli zombie Lutare Fare quello che vogliamo E poi far respawnare la zona Almeno Ancora funziona questa cosa Di essere Però Voglio controllare Che non ci siano altri Fernando Perché Ogni volta Saltiamo in aria A parte quello Giusto Quello è morto Ma tu Vai a dormire In eterno Tu Ora Bene Poi Tu Oh L'ho presa in testa Vabbè Ma Siamo abbastanza lontani Quell'altro non si sta svegliando Che tra parentesi Purtroppo Il fatto che Non abbia la distanza Ben renderizzata O comunque Non posso mettere Il render delle distanze Bene bene Perché se no Se ne vanno via I miei fps Instant Che ci sono troppe cose Purtroppo Riesco a vedere Questi zombie Wey Che vuoi dalla mia vita Vabbè dai Passa più cose silenziose Per ora E niente Come hai fatto a colpire Dietro lo zombie Ma non lo zombie Che sta davanti a te Che vuoi dalla mia vita Guardalo Lui che cerca L'opportunità buona Per colpirmi alle spalle Per farci saltare in aria Al solito Qualcosa che fa Un rumore strano Comunque Ok siamo saliti Di livello Vediamo Cosa vogliamo mettere Come punticino Abbiamo ben due Potremmo migliorare Perception Potremmo migliorare Ancora di più strength Ma che perché A livello 5 Ah ok c'è Al solito Ma che boscaiolo A livello 5 Possiamo potenziare Sì Quindi direi che lo facciamo Assolutamente E tu Dovei rompere la porta Per passare da un punto Dove non c'era bisogno Vabbè Vabbè Lo dici tu Scatuscio Wow che volo che hai fatto Vai stamina Please Solito Miss Qualche motivo Guarda come salta Allegramente questo Essere contento Ok Ah due colpi Le ammazzo Buono 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 Quindi cosa possiamo fare Possiamo andare qui Lutare Non dico niente E poi possiamo fare Spawnare il tutto Intanto ci prendiamo anche Un bel po' Di risorse da questo letto E Incredibilmente Danno un sacco di ex Queste cose E dopodiché Passerò un po' di tempo A lutare queste cose Perché danno Un sacco di materiali Come vi dicevo L'ultima Qualche volta fa Dico l'ultima volta Perché Comunque Non ricordo esattamente Quale video è stato Però forse nel primo Nel secondo O roba del genere E ci rivedremo Non appena avremo Cominciato La missione definitivamente Nice Ok ragazzi Ecco qua Vediamo un pochettino Se Però funzionerà Esatto Proprio perfetto Quello che vi dicevo È proprio questo Che si può sfruttare Questa Cosa Dell'andare a lutare Prima la zona Dove c'è la quest E poi Si fa ripartire In modo da Avere Praticamente doppia reazione Oh Fernando In realtà non ho mai spaventato Però Fernando please Get out Ok Dicevo Se vuoi fare questa strategia È Un po' cheating Su certi punti Cioè secondo me Però Come dire Il gioco ce lo permette E sarebbe buono Se qualcuno magari Se mi accorgesse E fixasse sta cosa Anche se Devo essere sincero Non saprei proprio Come fixarla Perché Del tipo che non puoi Rendere invulnerabile Una zona Perché Della questa Oppure potreste anche farlo Magari Fare in modo Che Del tipo Ok Questa zona È stata Designata Per essere Punto di quest In questo momento Perché il player Ha questa missione Su questo punto Specifico E Quindi Rendi Immune Il tutto Per Evitare proprio Questo Giochetto Non so se è una cosa Fattibile O una roba del genere Però Diciamo che Questa potrebbe essere La mia idea Vediamo se si sveglia Chi c'è dentro Perché Stavolta Magino Al solito Ci sarà qualcuno Qui no Anche perché così È proprio Doppie risorse Considerando che Ho fatto Un sacco di pietra Così dal nulla Ce ne avevamo Quanto 200 all'incirca Trattamente se questa pistola Era dentro la cassa Lì sopra Se qualcuno Fosse curioso Quindi dopo la smontiamo Wow Che volo Prendi un po' I sole Sopra la macchina Scatouche Attia che si giuro Bene Quindi nuovamente Riprenderò A lutare Questo punto E Poi Magari Ci rivedremo Appena Forse non andremo A consegnare direttamente La quest Anche perché Vorrei vedere un pochettino Cosa c'è In quel pass and gas Lì so Potremmo lutare Tranquillamente Quel posto Sicuramente Noterete che Il gameplay In questo momento È più che altro Andare a lutare Andare a fare risorse E poi costruire la base E così Praticamente Quasi all'infinito Tranne che poi Andando avanti Di livello Giustamente si devono fare Delle basi anche Un po' più potenti Si comincia a lavorare Un po' con l'elettricità E sicuramente Questo non è male E quindi In generale Ci sono delle cose Differenti E soprattutto Dopo il settimo giorno Credo Cominceranno anche A esserci degli zombie Più pericolosi In queste zone Anche per rendere Le cose più interessanti Però Per come è combinato In questo momento Il gioco Necessita di qualcosa Di più Le queste sono diventate Davvero molto difficili Da fare Nel senso che Oddio A proposito Spero di non aver Oh no Ok Non l'ho deletata Involontariamente Diciamo che è diventato Troppo difficile Andarle a raggiungere Nell'early game Cioè considerando che Siamo a giorni Da 90 minuti Diciamo che è davvero Troppo complicato Se dovessi provare Ad andare ad esempio Per i 60 minuti Quelli la standard Del gioco Perché Cazzo in 60 minuti Dovrei Riuscire A raggiungere Una determinata zona Comunque solitamente Sono anche chilometri Abbiamo avuto la fortuna Di avere qualche missione Vicino Ok Però Diciamo che la probabilità È davvero bassa E In giornate da 60 minuti Un player Solitamente Non ha La libertà Di andare a pensare Ok Devo perdere un sacco di tempo Per una struttura Devo andare piano E cercare ad esempio L'acido Per farmi la prima bicicletta Probabilmente Quella cosa potrebbe Prendere due giorni Perché Non è come Magari possono avere Anche la botta di fortuna Di trovare l'acido Molto velocemente Non come è successo a me Magari questo problema Non si pone Però In generale Capite il concetto Cioè se uno Non ha abbastanza fortuna E deve prendere Un sacco di tempo Per Farsi un veicolo Qualsiasi cosa Diciamo che il gioco Diventa Estremamente frenetico E solitamente Non ci si arriva Anche perché poi Dobbiamo anche Prendere in considerazione L'altro aspetto L'aspetto Del andare a raccogliere Le risorse E la costruzione Della base In sé Perché Purtroppo Se non si riesce a trovare Una spara chiodi Cosa che ancora Non siamo mai riusciti a trovare In questi playthrough O forse si Ci siamo riusciti Però non sono riusciti A sfruttarla Perché poi ho dovuto Resettare E' un problema Perché comunque Per potenziare Una base Ci si mette Un sacco di tempo Anche se Magari possiamo Utilizzare La nostra chiave inglese Però è comunque Un'enorme Richiesta di Di tempo Quindi Adesso qui dentro Magari mettiamo Delle cose Che potremmo trovare In giro facilmente Questo Magari lo trasformiamo In frammenti E ci siamo Comunque lo spazio Sicuramente c'è Questa 3D crash and sender Non ci serve Questa non ci serve La pentola Ce la teniamo Per sicurezza Magari La potrei anche Scrappare Sinceramente Scrappiamo la pistola Perché comunque È molto danneggiata E non voglio spendere Repair kit per lei E adesso Ce ne andiamo Verso il pass and gas Anche se è messo Letteralmente Sopra una montagna Che caspita Ti hai preso Fernando Che ti hai preso Perché ti sei arrabbiato Tutto di colpo Cioè non ti ho Completamente calcolato Forse è questo Il problema Quindi arrivi Una Fernanda Magari Non si è sentita Calcolata Non ho n'idea Cioè Sta di fatto Che strano Comunque ok A meno ci siamo Liberati Dal pensiero Dell'avere sempre Questo caspita Di uccellaccio Sopra di noi E Cavolo si Fortunatamente Non è troppo in alto Quindi Basteranno pochi frame Che dobbiamo riuscire A salire Però dopodichè Deve essere un problema Mi chiedo se una roba Del genere Possa essere utile Per una base O comunque Posso anche rispondervi Direttamente I zombie Hanno imparato In qualche modo A scavare Quindi Nonostante ciò Potrebbero riuscire A raggiungerci E se Non vado errato Infatti è Soltanto Neve Potremmo sfruttare Per fare acqua Però Però non ci interessa Allora Vediamo un pochettino Quindi Ehm no Magari Saliamo direttamente Da qui Metodo minecraft Hype Oh Ok Meglio ricaricare Tra l'altro Sì ecco Una cosa Interessante Che è successa Parlando di cani Ehm Pensandoci un attimo Mentre stavo Lutando un po' In giro Nella scorsa notte Proprio in questo mondo Non so Il motivo Però è arrivata Letteralmente Una piccola horda Di cani Oh mamma E quell'air drop Come caspia Mi ha spaventato Non lo so Dove l'hai buttato Ma giusto ora Lo devi buttare E anche a chilometri Me lo devi buttare Ma perché Fa Antipatico Ok Sap Avete Deve sparo chiodi No vero Completamente Non se ne parla Beh che in teoria Le sparo chiodi Potremmo trovarle Sicuramente Nei Negozi Di Attrezzi Però ogni volta Non le troviamo mai Un'altra torta Acqua Acqua Birra Nice Birra E Cosa vuoto Appena trovo altro acido Mi secco Bene Grazie Quasi quasi preferisco Non trovarne A sto punto Mi sento troppo trollato Ok Beviamo perché comunque Abbiamo usato un bel po' Della nostra stamina Tra parentesi Qualcuno magari starà pensato Caspita Non hai lutato completamente Gli uffici L'ultima volta Però Diciamo che non avevo Lo spazio per farlo Oh Suffro Non so perché ho premuto Esc In realtà non volevo premere Esc Il problema è che volevo interrompere Questo E invece ho premuto Esc Non perché mi sono spaventato Dal tizio che è cascato Il tetto Anche perché Si noterebbe Ed è stato Mente gentile Da portarci Uuuu Steroidi E del Dei soldi Nice Aspetta quanto abbiamo Eh Livello 2 Non lo posso potenziare Quindi Hey Pack Mule a livello 4 Boys Abbiamo quasi tutto L'inventario Sbloccato Fantastico Hey Ok Sembra che non ci sia Nel altro Forse qualche cane fuori Che bella nevica Eh Diciamo Questa cosa che ha Eh Possiamo smontarla Volendo Cardboard Intricchie Non ancora dorme Svegliati Nessun cane Nessun altro zombie Oh Oh Ho sentito qualcosa Sentito qualcosa A rompersi C'è stata un'impressione Questi qua però Li scrappiamo Niente di che Niente di che Ok ragazzi Vogliamo scendere sotto E dire proprio Che lo facciamo Hey boys Oh What is this Un bunker A questo punto Mi viene un dubbio Eh che caspita Mi viene un dubbio Se tutte le zone Tipo Con rialzamenti Abbiamo dei bunker Sotto Molto 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 Interessante Una cosa Ok vediamo Niente di buono Abbiamo trovato Un po' di loot Eh La prendiamo Wow Ah Interessante Vediamo magari Una magnum Ma manco per il cavolo Non se ne parla proprio Pop and pills Quindi avevano pillole E cibo Qui sotto Guardali loro Sì Pillole Capite perché dicevo Caspita Sicuramente l'acido Lo possiamo trovare Nelle farmacie Da parte i condomini Che mi è stato detto Ma per questo motivo Perché in effetti Possiamo trovare Nelle scade Le farmacie Che brutta cosa Peccato che non c'è Molto altro Però è comunque Molto interessante Una roba del genere Sarebbe carino davvero Andare a controllare Se in altri rialzamenti Del genere Ci siano Dei bunker Una volta mi è capitato Di fare Una missione All'interno di un bunker Era però Mi sa tier 2 Sempre in single player Questa cosa Mi è successa E devo dire Che è stata una cosa Bellissima da fare C'è molto divertente Perché poi Mi è arrivata anche Un'orda di zombie Dentro il bunker Che fortunatamente Era giorno Perché se no Starei morto malissimo Però Sono molto carini Ok perché Correndo non si può Andare più veloci Comunque questa workbench È rotta Non so come faccia Essere bagnato Visto che sono Dentro Però dobbiamo andare Necessariamente All'airdrop Perché ho notato Che gli airdrop Spariscono Dopo un po' di tempo Che è una cosa Molto fastidiosa Perché Non solo Te li buttano Lontanissimi Te li devi pure Andare a prendere Molto velocemente Perché se no Rip Comunque avranno Nerfato per forza Queste workbench Come guadagno Di iron Alla fine Ah no ecco Ora me ne ha dati 20 Comunque non prenderò Tutte cose qui ragazzi Anche perché Sinceramente Cioè Abbiamo fatto un bel po' Non ci sono Oh Eccoli là invece Aspetta un momento Perché quegli scatoli Sembbero avere cose utili Infatti mi chiedevo Deve caspita Sono le cose Del pass and gas Qui sopra Non ci sono Lasciamo perdere Parte Due Che letteralmente Mi ha dato due ruote Un sacco di acido Mi sento preso in giro Se devo essere sincero Con voi Però in effetti Le ruote così Possiamo utilizzarle Per Aspetta Motorcycle Questa sarebbe davvero carina Da fare Mini bike Almeno abbiamo le ruote Già fatte no? Da un certo punto di vista Non mi lamento Dai Avanti Prendiamola così Prendiamola così Facciamo finta di non Aver perso soltanto Più di un'ora Nell'ultimo episodio Per trovare Un acido Del cavolo Adesso lo stiamo trovando Direttamente le ruote fatte E l'acido Facciamo finta di nulla Oh man Perché queste cattiverie Nei miei comprompi Non ho fatto niente di male Gioco Allora vediamo Dov'è sto airdrop È troppo lontano E fortunatamente L'ho marchiato Perché Come avete visto Prima non Non era proprio Iper visibile Vieni qua Da papà No non dietro labbero Stai Ok non so Con cosa Avrebbe sbattuto La freccia Non l'ho one shotato E questo invece L'ha preso Nice Si caspia di cose Ogni tanto diventano Dei tank Per qualche motivo Allora c'è intanto Il drop Spero che non sia Un drop di cibo Perché se no Non so dove metterlo E qua Give me Give me Give me your food Non ho lo spazio Per prendere le ossa Ma sono già dentro La bicicletta Perché lo so Meglio riprendercela Eeeh Scusami Che stai facendo qui È di mia proprietà Guarda un po' Che impertinenti Eeeh Mettiamo anche queste Mettiamo anche questi Se questo lo Lo buttiamo Siamo a posto Nice Vabbè Le ossa Pazienza Le lasciamo lì per ora Anche se forse Alla fine Per che cosa Per due metri Come faccio Vediamo un po' Che ti ho questo drop Che è caduto un pochino Storto Cosa abbiamo Ovviamente c'è un putiferio di cibo E non so dove metterlo Però uno shotgun Livello 2 Lo prendiamo Ah ecco Ok Stavo dicendo Che cosa Si rompe Se esco Che cacchio Cosa 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 Seriamente E' una zona di radiazione Quindi non le hanno eliminate Con l'impressione Che questo qua Ci servirà dopo Porca la miseria Vabbè Questi li scrappiamo A sto punto What Questa è nuova Ma molto nuova Comunque ragazzi Direi che adesso Tornerò verso casa Direttamente Andremo a consegnare La nostra missione E Dopodiché Potremo concludere Tranquillamente l'episodio Piuttosto soddisfatti Perché comunque abbiamo Trovato delle cose buone E Wow Quello è un campo da rugby Nice Oh no però Una brutta sensazione Però voglio esplorare Cioè almeno voglio Vederlo nella mappa Nice Molto carina Come cosa Non ne avevo mai visto uno Sinceramente In gioco Anche nella realtà In effetti Mamma mia enorme Ok Sicuramente daremo Un'occhiata Speriamo di non Beccarci qualche Infezione Infatti Per fortuna no Comunque qualche Tipo di radiazione Qualche cavolata Perché letteralmente Sono saltate in aria Tra virgolette Perché ho detto Ma che è sta roba Cioè poi ho guardato Il segnale Radiazioni Oh What Anche perché Ricordo all'inizio Del gioco Del tipo che Si parla Quando ancora Era tipo l'alpha Alpha quale Oh no Ho fatto un errore Non posso bere l'acqua Mentre sono sulla bicicletta Per qualche motivo Comunque il loot Va perso Si parla che era Tipo l'alpha 4 Qualcosa del genere E inizialmente Nella Navets gain Che era l'unica cosa Che si poteva giocare Perché non c'era il random C'erano delle zone Ben specifiche Con Delle radiazioni Del tipo che erano I bordi della mappa Aspetta Non penso che sia Il bordo della mappa Quello Buongiorno E di conseguenza Per andare in queste zone Con radiazioni Se non sbaglio C'erano dei Metodi Una volta Ora purtroppo Sono passati tipo Cinque anni Qualcosa del genere E non ricordo esattamente Però Sicuramente interessante Sapere che ancora Esistono queste zone Quindi mi chiedo Se c'è ancora Qualche Tuta Antiradiazioni O roba del genere Perché A questo punto Non saprei proprio Come andarci Anche se dubito Che ci debba andare Solo che Si capiva esattamente Che fosse una zona Radiattiva Perché il terreno Era Tipo di un verde Diverso Rispetto a quello Che vediamo qui Tipo non renderizzato Roba del genere Quindi Era piuttosto interessante Anche il concetto Però Aveva anche senso Perché In teoria Questa Questa situazione Di questi zombie È stata causata Proprio da Una questione Nucleare Quindi Diciamo che Ha senso Che ci siano Delle zone Radioattive Però Ui Oh no Dodge Ok Perché sto appendendo Questa strada A questo punto Non lo so Comunque Quindi Buona sapersi Allora sappiamo Che esistono ancora E sappiamo anche Che dobbiamo Stare attenti Perché non sono Ben Esposte Perché lì Infatti ho detto Vabbè È soltanto Bioma Preso Dal freddo Bioma ghiacciato Non dovrebbero esserci Problemi No E sto acchiappando Tutti gli ostacoli Possibili Nice Comunque Detto questo Ragazzi Ci rivedremo Direttamente Al commerciante O alla commerciante Ok ragazzi Eccoci qua Uff È stato un pochettino Complicato Guidare Perché ho avuto Un piccolo problema Uh Antibiotici Ah nice Siamo riusciti a completare Il Il tier 1 E come ricompensa Vuole darci La recipe Per fare Gli antibiotici Con le erbe E sicuramente Non ti dico di no Perché comunque Scrapplating Sinceramente Non me ne frega più di tanto Quindi questo significa Che prima o poi Dovremmo riuscire a sbloccare O comunque nei prossimi giorni Dovremmo riuscire a sbloccare Il tier 2 Che non mi dispiacerebbe Fatto Anche per avere Delle ricompense Forse più interessanti Non ne ho idea Comunque Vediamo un pochettino Cosa possiamo vendere Le french Non ne vale la pena Allora Sicuramente possiamo Rivendere Sti soldini Uh Dove sono spuntati Tutti sti soldi Quando li ho presi Ehm Poi che cosa vendiamo Sicuramente non voglio vendere Questo La bicycle chasis Forse Potremmo anche venderla Però è che vi dico Vendiamo questo Che sinceramente Questo cibo Fa venire solitamente Delle infezioni O roba del genere Ed è piuttosto fastidioso Quando se ne mangia troppo Vediamo un pochettino Cosa ha da vendere Un piccone livello 3 Ok Hunting rifle livello 5 Queste le ho appena vendute io Forse potremmo comprare Una di queste Per poi farci direttamente La motocicletta Aspetta Per fare la motocicletta Quella bella potente Motor No Bike Non bike Ehm Caspita Minibike No Minibike Chasis Accendi Non mi sto ricordando Dove si hanno messo Vediamo Quest'altro sto avendo Un vuoto di memoria Sembra piuttosto Stupido ma Un vuoto di memoria Wheel Giusto Prendiamo Motorbike Motorcycle Ok Direttamente Non serve Led light Per Costruirne una Però forse Serve per mettergli Proprio la luce 4x4 Questo sicuramente Ci farà un po' di tempo Per farlo Però vediamo Se vediamo Il tuo inventario Magari ce ne prendiamo Uno giusto per Giusto per Non si può mai sapere Magari C'è un sacco di ferro Però Uh il concrete mix Quanto costa So 75 blocchi Da potenziare così E i soldi Alla fine ce li abbiamo Vediamo Se c'è qualcosa Alto di utile Cemento No Gravedigger Sinceramente Sono cose che si possono Trovare Però sinceramente Se già possiamo Risparmiare So che È piuttosto costoso Però se possiamo Risparmiare tempo Nel farmare Certe cose 75 blocchi Sono comunque 75 blocchi Più Il concrete Che riusciamo A trovare in giro Sicuramente Ci fa risparmiare Un sacco Di tempo Va bene ragazzi Quindi siamo riusciti A trovare qualcosa Di abbastanza interessante Nel prossimo episodio Sicuramente A questo punto Dobbiamo cominciare A pensare Dove andare A mettere La nostra base Definitivamente Per l'orda Non so perché L'ho ripetuto Definitivamente Tante volte Però non ci fate Troppo caso Probabilmente Potremmo costruirla Qua che è una Bella pianura Oppure possiamo Metterla anche Tipo qui Potrebbe essere buono Ancora non ho Un'idea ben precisa Del design Da utilizzare Perché Potrei utilizzare Un blocco centrale E poi un bel corridoio Bello lungo L'unico problema È che Questo design Sta venendo usato Ovviamente da tutti Per il semplice motivo Che le trappole Sono diventate Un pochino obsolete Per come le hanno Fatte Perché gli zombie Con il fatto che Riescono a trovare Un passaggio Ben preciso Per passare O comunque Distruggono quelle Trappole E poi Seguono quella striscia Diciamo che È diventato un pochettino Inutile anche provare A farle Quindi si utilizzano Altri metodi Che magari posso farvi vedere Anche se Dove essere sincero Vorrei provare A uscire Con un mio Design Anche se Non si può mai sapere Se funzionerà o meno Però Anche questo è il bello Del gioco Comunque Al solito io ragazzi Vi ringrazio per la visione Spero che comunque Vi piacciono Questi episodi Tra virgolette Un po' più lunghi Non sono proprio Stralunghi Perché potrei Lasciarli interi Però Spero che L'apprezzate Altrimenti Potrei tranquillamente Fare Un po' più attenzione Cercare di fare Anche un po' più Editing Magari su certe parti E renderli Anche più ritagliati Fatemi sapere Un po' nei commenti Detto questo Io vi ringrazio Assoluto per la visione Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 ciao